Ciao a tutti, eccomi qui con un video velocissimo nel quale sto per annunciarvi che, rullo i tamburi, è indetto un piccolissimo giveaway sul mio canale. Questo giveaway è riservato agli iscritti e quindi dovrete essere iscritti al canale 75marghe75 per poter partecipare. Questa è l'unica regola. Il giveaway parte oggi, data di messa del video su YouTube, fino alla fine di aprile, quindi l'ultimo giorno di aprile 2014 è il termine ultimo per poter partecipare. Basta inserire per partecipare uno o più commenti sotto questo video, potete anche metterne uno al giorno, 20 al giorno, come preferite, non c'è nessun limite. E nel mese successivo, poi quindi i primi giorni di maggio, immagino, farò un video apposito dove indicherò chi potrà appunto ricevere in dono questo, una persona appunto, questo cofanetto. E vado anche a spiegarvi che cosa è contenuto al suo interno. All'interno c'è praticamente questa lattina con dentro un liquido conservativo e una ostrica da perla. Quindi all'interno di questa ostrica, di questa conchiglia, potrete trovare una perla che sarà di uno di questi colori. Quindi sarà una sorpresa anche quella. E a seconda del colore trovato, dovrebbe portare, dovrebbe, dico perché è un gioco fondamentalmente, portarvi fortuna anche nell'ambito designato che leggete sotto. Quindi salute, successo, amore, bla bla bla. E c'è all'interno anche questa piccola collanina con una gabbietta che andrà poi a contenere, potrete mettere all'interno, la perla che troverete. Una gabbietta che si apre ovviamente a metà, inserirete la perla e la richiudete. Quindi mi era sembrata un'idea un po' abbastanza originale e carina che possa essere piacevole sia per le scritte che mi seguono e che sono creative a loro volta, sia per le persone che mi seguono soltanto perché amano il mondo del handmade e dei gioielli in generale, ma che non creano a loro volta. Però in questo caso potranno semplicemente creare il loro ciondolo, anche se sono a digiuno di qualsiasi tecnica creativa. E niente, penso di aver detto tutto. Ovviamente se il video vi piace, se volete mettere vi piace al video, a me fa piacere, non è una regola, però ben venga. Ecco, quindi io vi do appuntamento al prossimo video che penso sia un video creazioni dove voglio parlarvi di un po' di cose che ho creato ultimamente. E ci vediamo prossimamente, allora ciao, ciao a tutti!